Bloccato dal Tar del Lazio, il concorso per la nomina del procuratore di Arezzo, una decisione che arriva dopo il ricorso presentato al Tribunale amministrativo da Roberto Rossi a seguito della sua mancata riconferma da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. La decisione sul merito sarà presa a giugno, ma intanto il Tar ha concesso la sospensiva per il bando di concorso sulla scelta del suo successore, valutando dunque con attenzione gli estremi per la fondatezza della richiesta presentata dal magistrato Aretino. Rossi non era stato riconfermato alla guida della procura di Arezzo perché, secondo la delibera votata dal CSM lo scorso 24 ottobre, correlatore Pier Camillo Davigo avrebbe compromesso il requisito dell'indipendenza dai propri condizionamenti, almeno sotto il profilo dell'immagine. Al magistrato si contestava infatti di aver mantenuto l'incarico di consulenza con il governo ai tempi di Letta e Renzi, anche dopo l'avvio delle indagini sul crack di Manchetruria, del cui CDA faceva parte Pier Luigi Boschi, padre dell'allora ministro Maria Elena. Rossi ha invece sempre sostenuto che il suo incarico si era già concluso nel 2015, mentre le indagini erano iniziate nel 2016. Sempre secondo Rossi, infine nella delibera del CSM ci sarebbero stati dei profili di criticità talmente manifesti dal non potersi esimere dall'impugnarla, da qui il ricorso presentato alcuni giorni fa. Attualmente Roberto Rossi svolge il ruolo di sostituto procuratore, mentre quello di capo della procura di Arezzo è stato affidato a Luciana Piras. Ad oggi, infine, il Ministero della Giustizia non è messo un decreto che recepisca lo stop dato dal CSM al magistrato.